Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale Calcio Napoli, il punto della situazione in base alla giornata di ieri. Ieri mi sono goduto veramente la giornata di allenamento, ovviamente seguendo la live di Calcio Napoli24 sul loro canale YouTube, la conferenza stampa di Garcia, ci sono molte cose, soprattutto per quanto riguarda il calcio mercato, che sembrano più chiare di 48 ore fa. Ma ne parliamo in questo video ragazzi, prima di cominciare iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e partiamo. Da dove cominciamo? Cominciamo dalla conferenza stampa di Garcia, sì, cominciamo dalla conferenza stampa di Garcia perché ci sono delle cose che volevo ovviamente parlarne con voi e sapere la vostra, fatemela sapere nei commenti ragazzi, discutiamone così ci confrontiamo un attimo nella sezione dei commenti. Io rispondo sempre a tutti quanti, quindi non c'è niente di più costruttivo dal mio punto di vista che condivide le idee con voi nella sezione dei commenti. Allora, ovviamente non andiamo a rivedere tutta la conferenza stampa che a me è piaciuta tantissimo per la concretezza delle risposte, per la risposta sempre pronta ovviamente e per aver esaudito al 100% tutte le domande. Garcia, a livello comunicativo, non voglio dire che è uguale a Spalletti, però sono quegli allenatori che se gli fai una domanda e la situazione non scotta o non c'è niente sotto che non può uscire, Garcia ti delucita su tutto ciò che poi sono le situazioni in bilico, ha parlato di mercato. Andiamo a vedere nel succo cosa ci ha fatto capire Rudy Garcia, ce l'abbiamo qui, eccolo qua. Allora, Rudy Garcia ha detto che ha sentito Simen, ha chiamato Simen o Simen vuole restare a Napoli per vincere ancora in questa piazza, salvo, l'abbiamo già saputo, l'abbiamo già letto e l'abbiamo già sentito, salvo ovviamente che arrivi qualcuno con 200 milioni domani, offerta che farà sicuramente riflettere e va a finire che lo perdi, però al 99% Simen credo e mi auguro che sarà un calciatore del Napoli nella prossima stagione perché con tutta l'offerta che può arrivare, darlo via dopo la prima annata alla fine a Napoli con continuità e con tantissimi colsegnati è un peccato poi perdere un attaccante che può ripetersi, diciamo, sull'onda dell'entusiasmo. Garcia ha fatto una considerazione che mi fa pensare sul calciomercato o meglio, credo che il calciomercato del Napoli comunque non venga delineato tutto quanto prima di Casteldisangro perché Garcia ha detto che vuole vedere tutti i calciatori per capire poi se ci sono le possibilità di schierare tutti quelli che abbiamo in rosa, se i calciatori che abbiamo in rosa hanno voglia ovviamente, parliamo dei personaggi in scadenza, Lozano, Zielinski, se ne parla tantissimo, io spero che Zielinski rifiuti le sirene arabe e non parte e rimanga a Napoli perché meglio averlo un centrocambista del genere che poi venderlo e devi andare a rimpiazzarlo e non sai se riesci a portare a Napoli poi uno che renda almeno quanto il nostro Zielu. Detto questo, Garcia non si è nascosto dietro un dito e ha detto che praticamente andrà cercando ovviamente nella rosa titolare del Napoli, quando rientreranno tutti quanti, andrà cercando le figure che possono ovviare ai tatticismi in campo, ovvero figure che capiscono perfettamente come ti devi muovere, figure che possono fare da allenatore aggiunto nei 90 minuti, ovviamente tutte le grandi squadre hanno calciatori che riescono ad ovviare tatticamente anche alla mancanza di un allenatore in panchina, vedi un Real Madrid con Modric, vedi lo stesso Bayern Monaco per esempio con un Müller perché noi noi prendiamo sempre Müller come esempio e diciamo ma quello è vecchio, però sono quei calciatori che riescono ad incamerare le idee dell'allenatore e portarle poi in campo nel caso serva in un momento buio perché sono calciatori che hanno lo spunto, sono calciatori che tatticamente non hanno niente da invidiare a nessuno quindi puoi tranquillamente dargli o meglio possono accollarsi tranquillamente la responsabilità di essere appunto allenatori aggiunti in campo. Cosa da non sottovalutare perché a Napoli ce ne sono già credo abbastanza di calciatori che dopo la cura Spalletti possono dare una mano anche a Garzia a far incamerare i movimenti molto prima, a esprimersi tatticamente per ciò che vuole il nuovo allenatore. Una conferenza stampa che non mi ha sconvolto perché Garzia si è già visto dal primo giorno che è arrivato, persona seria, persona che non le manda a dire e né tantomeno fa giri di parole per arrivare poi a una conclusione che si poteva dire anche diciamo molto più schiettamente. Schiettamente si può dire schiettamente? Credo di sì, speriamo di sì. Poi per quanto riguarda ovviamente la situazione Zielinski, l'ho detto già, mi auguro che Zielinski rimanga anche per dare uno schiaffo morale a tutti coloro che stanno scegliendo la rabbia, a tutti coloro che poi sotto sotto si mettono a conversare con altre squadre rifiutando delle altre ma faremo un altro video per quanto riguarda questa situazione perché ci sono dei valori umani secondo me in questi calciatori che mancano quindi Zielinski non è uno di quelli che l'ha già dimostrato, sposerebbe e vuole sposare tranquillamente il progetto Napoli anche con ingaggio e ribasso, mi auguro che Zielinski rimanga così come Mario Rui. Quindi speriamo che riusciamo a tenere tutti quanti in rosa se poi deve partire proprio uno sulla destra, rimpiazziamo il Losano di turno se dovesse partire ma offerte di mercato a parte la rabbia che non credo venga accettata dal messicano non ce ne sono state anche perché il cartellino non costa poco bisogna mettere sicuramente 35 milioni sul piatto per prendere Losano vediamo cosa succederà poi nei prossimi giorni ci ha detto Garzia che non arriva, non arriverà Maxime Lopez che se ne è parlato tanto il giocatore del Sassuolo che è stato lanciato in passato dallo stesso Garzia cerchiamo altri profili, forse arriverà a Tuzardo non lo sappiamo per certo però abbiamo saputo ieri dalla conferenza che i contatti e le offerte ci sono vedremo il Napoli come si comporterà sul mercato aspettiamo ovviamente la situazione Zanoli da risolvere arriverà a Faraoni almeno per quanto si legge anche oggi l'accordo è stato trovato 3 milioni al Verona e 1 milione a stagione al calciatore un'operazione migliore di questa non la si poteva fare sempre considerando che Zanoli andrà in prestito perché se Zanoli non fosse andato in prestito o non andrà in prestito non serviva Faraoni quindi Faraoni è solamente un'operazione di riflesso al prestito di Zanoli ed è un grandissimo difensore è esperienza è più un esterno, ne ho già parlato è più un esterno di centrocampo per caratteristiche forse assomiglia più a Mario Rui per la fase offensiva che per le qualità di Terzini però nel calcio di Garcia con le fasce laterali comunque super impegnate e molto più larghe credo di come giocava poi il Napoli di Spalletti tanto oro colato credo per l'acquisto di Faraoni quindi vedremo poi come si comporterà non voglio poi sbilanciarmi troppo e dire abbiamo preso il grandissimo laterale poi va a finire che fa le prime due partite da subentrato si giochi la sua chance la stecchi e poi cominciamo hai visto Faraoni a te ti piaceva poi quello non è buono e questo è quell'altro Faraoni è un calciatore che può dire la sua e può far rifiatare secondo me di Lorenzo nel caso ce ne sia bisogno perché poi bisogna anche vedere le scelte che farà poi Garcia se attuerà un turnover di tanto in tanto per far rifiatare qualcuno non credo che sarà l'annata che abbiamo fatto quest'anno con un 11 titolare e con personaggi che hanno fatto veramente tutte le partite vedremo poi come andremo a giocarci le nostre carte c'è a Napoli ovviamente il vice anguissà che si dice nella primavera e parliamo di Saco mi sembra che si chiami Saco Saco adesso la pronuncia almeno su Calcio Napoli 24 ieri parlavano di Saco quindi spero che si pronunci così con una sorta di accento francese però è un calciatore ragazzi che è alto un metro e novantaquattro se non un metro e novantasei sto andando solo a rivedere le le se ho ragione o meno uno e novantaquattro uno e novantaquattro eccolo qua il profilo uno e novantasette addirittura e se ne sta parlando tantissimo di questo calciatore perché già 48 ore fa Saco può essere il vice anguissà forse non dobbiamo intervenire sul mercato già se ne parlava comunque su alcune testate giornalistiche e io e anche per questo motivo che ieri mi sono voluto vedere comunque gli allenamenti in live sul canale di Calcio Napoli 24 per constatare comunque con i miei occhi tutte le cose buone che si dicevano di questo ragazzo secondo me una una scommessa la possiamo fare in tutta la rosa ma possiamo anche dire sì ma è troppo giovane forse non ha esperienza dobbiamo giocare la Champions League sì però noi in panchina il vice anguissà non ce l'abbiamo e andarlo a trovare un vice anguissà non è per niente semplice perché parliamo di centrocampisti che al di là dell'assist al di là del passaggio preciso sono giocatori che tatticamente sono duttili al cento per cento gli puoi gli puoi chiedere di fare più l'incontrista che il rifinitore e te lo fai gli puoi chiedere di stare più al ridosso della linea d'attacco e non c'è nessun problema solo solamente anguissà pecca quando è fuori condizione così come tantissimi calciatori però con anguissà quando è fuori condizione lo si vede tantissimo perché comincia a sbagliare anche passaggi a un metro e mezzo due metri perde di lucidità e l'abbiamo visto sempre quando è tornato dalla Coppa d'Africa visto che comunque anche questa impegnata in Coppa d'Africa serve assolutamente il sostituto di Frank Zambo anguissà che rimane uno dei centrocampisti più forti della serie A e uno degli acquisti con che poi hanno per ciò che hanno dato sono stati proprio inaspettati io non mi sarei mai aspettato che anguissà diventasse ciò che è diventato inamovibile io non lo toglierei mai dal centrocampo del Napoli perché per palloni recuperati per aiuto sulla destra di Lorenzo in fase di chiusura il raddoppio c'è sempre corre tutta la partita te lo ritrovi in inserimento in area di ricordo avversaria e al limite la butta pure dentro calciatore completo però Colisaco calciatore di ventun anni un metro e novantasette visto ieri ha le stesse movenze del nostro Frank tra avere le stesse movenze e qualche caratteristica simile ad anguissà e paragonarlo ovviamente al calciatore titolare del Napoli ce ne passa però alla vista secondo me possiamo scommetterci o meglio tra tutte tra tutti i calciatori della primavera che poi si è portato Garzia sarebbe l'unico calciatore che porterei poi avanti nella rosa titolare del Napoli per la stagione 2022-2024 vediamo come andrà a finire come ovviamente si evolverà anche il riviro di questo calciatore tanta tanta roba è enorme è larghissimo altissimo lunghissime leve diciamo che come altezza assomiglia quasi più a un po' va però come larghezza è esageratamente più grande di Bob e poi i piedi ci sono la visione di gioco anche per quel poco ovviamente che abbiamo visto perché ieri comunque si è giocata una non era una partitella ma erano degli scambi a un tocco a due tocchi comunque un pochino lo vedi la soluzione che va a cercare non cerca mai la soluzione più semplice a volte ieri soprattutto ha fatto qualche passaggio che io non mi sarei aspettato tra le linee tra tanti calciatori riesce a trovare l'imbucata secondo me grandissimi margini di miglioramento ancora e una chance gliela possiamo dare poi nel caso non trovi spazio o vengano a mancare delle qualità che possano essere mentali perché poi sei alla prima in prima squadra ci sono tanti fattori da esaminare a gennaio puoi sempre un attimo intervenire per trovarlo il sostituto di Anguissa perché a centrocampo abbiamo anche Helmas che è un jolly prendi sicuramente un altro centrocampista perché lo stai prendendo vedremo chi arriverà quindi puoi giostarti un attimo una scommessa nel reparto di centrocampo vedremo poi il Napoli cosa farà per quanto riguarda le maglie di allenamento perché non ne ho parlato stupende le maglie di allenamento quella blu scuro con le rifiniture qua e con lo stem ebay in bianco non mi piace tantissimo quella bianca che indossa garcia ma solo perché c'è lo stem ebay colorato e lo stem ebay a me non è mai piaciuto a prescindere quello là colorato però tutto in bianco fa una grandissima figura a livello di stile siamo migliorati tantissimo dal passaggio tra la cappa ed armani abbiamo tolto il russo della lete siamo belli da vedere e speriamo di essere anche discretamente efficaci ecco sul campo vedremo poi come si evolverà questo ritiro io ovviamente vi seguirò i ritiri sempre in live e andrò a guardarmi le cose che mi interessano e le commenterò sempre con voi ragazzi sempre forza napoli non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto un like a questo video ciao